no raga 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 c'è praticamente si è stoppato il video da solo ve lo giuro avete visto nel video precedente si vede benissimamente che io avevo le mani qua quindi non ho fatto niente c'è nella stanza solo da sola c'è solo da solo se farvi capire l'unica persona che dovrebbe entrare da quella porta quindi c'è non lo so come aveva fatto come è successo c'è la voglio dire veramente vuol dire che c'è delle cose che vi giuro che non c'era nessuno nessuno mi radello sta ancora dormendo la piccolina mia mamma sta cucinando la piccolina sta vicino a te che si sta svegliando a farvi capire tutta sola qui mi stanno sentendo che comunque raga tornando a noi gli stavo dicendo nel video precedente facciamo la parte 2 che io andasse a finire con la testa la sopra mi facessi male quindi io a poco alla volta con le mani davanti a me che stanno diciamo la cabbia no e spero che non me ne scendeva la parte di giù che per poco non mi mettessi in ginocchio questo fatto lo dito anche nel video precedente c'è ragazzi ho ancora pensato che ho fatto lì prima che si è stappato il video da solo cioè non lo so come se è il mio cellulare che sta impazzendo mia mamma che chiamo il mio sorello cioè è vero che io sto buono tanto però cioè quando devo fare i miei video in senza pace allora stavo dicendo che io è vero che sto buono tanto perché a volte si sentono dei sottofondi ecco perché io a volte se vedete perché a volte ci sono dei sottofondi cioè come ben sapete e quindi non sono da sola e quindi per registrare un video in tanta pace dove registrarlo di notte che cosa un po difficile perché io ci sono di notte raga però qualche volta ci provo allora gli stavo dicendo e quindi piano piano mi ci abbassavo la stessa cosa vedevo che facessi mio fratello perché il mio fratello è trovato più bassi di miei più corto di miei quindi c'è il 3 metri più alto di miei e quindi questo è tutto poi due giornate di più ah boh raga poi vabbè raga poi abbiamo fatto alcuni giri dove dobbiamo fare di più sulle macchie tozzi tozzi che poi ci siamo messi a cadere il mio fratello su una ragazza e la avevamo tra parentesi po' scemonina se si può dire così non voglio dire altro comunque l'abbiamo messo di mira e la bloccavamo di qua di là comunque questa ragazza da un certo punto alla fine ha fatto non ce la faccio più quando abbiamo finito ha fatto con le mani così perché poi si è fermata non dico davanti a me ma tipo di fianco che io girandomi l'avevo vista e ha fatto con le mani così non ce la faccio più ho detto io questo che ho capito che l'abbiamo presa di mira comunque la prossima volta perché ci sarà la prossima volta che io faremo ci andremo in questa non questa ad elandia e dell'agna io faccio fatto qualche cosa di come devo dire devo registrare così vedete tutto e comunque raga tutto questo prima vi stavo dicendo il fatto di vedere che è chiaro che io c'è un supporto praticamente raga io c'ho 0,50 cioè mezzo grado e di qua c'ho addirittura 0,025 c'è la metà di mezzo grado per farvi capire quindi i gradi sono pochissimi ma io li porto lo stesso insomma giusto perché se ora c'ho questi gradi qua se io non metto gli occhiali andrò poi dopo a peggiorare e quindi a me dopo alcuni di bicchiere come fanno molte persone ehi papi io non me la metto peggiori perchè tanto io ci vedo no non è che non ci vedo tu non ci vedi basta comunque grado tu non vedi quindi perché peggiorare comunque raga se vi è piaciuto il racconto di edelandia che vi ho fatto la prossima volta pubblico vabbè le foto le ho pubblicate i video sui social le ho pubblicate quindi se volete un video proprio più decente delle strontate che facciamo a headline la prossima volta che andiamo scrivetecelo nei commenti così ci attrezziamo ovviamente la prossima volta che andiamo comunque sorprendita la cosa ho fatto di prima di come si chiama di video non ci posso pensare comunque raga questa è la mia posizione la mia visita la mia visita è abituata a stare qui questo è carino bellissimo molto bello quasi ho anche una dimora fissa per registrare i video e che ti dirvi raga un bacio noi ci vediamo nel prossimo video ovviamente questo sabato siete proprio quando non sapete passare non sapete come passare un sabato lo passate con me a vedere i video su youtube ma no ci vediamo ovviamente nei short non so se si chiama così ci vediamo là più tardi ciao